Il cuore a Bologna, i polmoni a Torino, il fegato a Bergamo, i due erreni, uno a Milano e l'altro a Padova. E' la destinazione prevista per gli organi del piccolo Gianluca Irrera, il bambino di 7 anni ucciso dal padre poliziotto, poi suicida. I suoi organi salveranno 5 bambini in lista d'attesa. Le operazioni di prelievo, durate circa 6 ore, effettuate al civico di Palermo, dove il cuoricino di Gianluca, cessato di battere alle 11.27 di ieri, sono cominciate intorno alle 22.30, sono state effettuate da equipi di medici provenienti da Bologna, Bergamo e Torino. Contestualmente è stata effettuata l'autopsia. Tutte le fasi di assegnazione a prelievo degli organi sono state coordinate dal centro regionale Trapianti. Intanto, dall'indagine viene fuori che l'agente di polizia, Ivan Irrera, aveva pianificato da tempo il suo progetto. Preoccupato per il futuro a causa dei debiti contratti, aveva deciso di togliersi la vita, portando con sé non solo il figlio più piccolo, ma anche la sorella maggiore del bambino. Un primo tentativo alla fine del mese scorso era fallito perché non aveva trovato il coraggio. Lo racconta lui stesso in una delle lettere trovate, oltre che in casa, anche nella scrivania del suo ufficio alla squadra mobile di Palermo, missive, nelle quali chiede scusa a tutti, in particolare alla moglie, che confermano il momento economico ipotizzato sin dal primo momento. Il poliziotto, che era stato coinvolto anche nel crack Parmanat, era infatti solito giocare in borsa, coinvolgendo in questi suoi investimenti anche alcuni colleghi. In passato, per questo motivo, era stato costretto a vendere due appartamenti e ad esporsi finanziariamente con la famiglia della moglie. Lunedì avrebbe dovuto saldare un debito che non era in condizioni di pagare. Da qui la decisione di farla finite. Dopo avere trascorso tutta la notte a scrivere alcune lettere al computer, la gente ha aperto la Bibbia nelle pagine dove si narra il sacrificio di Isacco, ed è entrato nella stanza del figlio e ha fatto fuoco. Poi si è disteso accanto al bimbo ormai esanime e si è sparato alla tempia. Grazie. Grazie.